Ah! Sio, come stai? Chi sei tu? Un medico. Che tipo di medico? Un medico che si accorge perfettamente che stai fingendo. E che il tuo incidente è tutto una messa in scena. Tu sei un cretino. Ma sai che su questo sono d'accordo con te? Ha già un primo passo. Ho fatto tanto per te, Maria. Allora, la prossima volta fai anche meno, eh. Vai! Ma che si dà uno schiaffo al tuo credere malato? Ma lo stai, mettila! Adesso lo difendi pure. Guarda, guarda che non dico quello che penso di te solo perché c'è Stella. Dillo, dai, dillo. Ah, vuoi che te lo dico? Guarda, non ti azzardare mai più. Brava. Tazzi! Stronzi, tutte e due!